buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi ho preparato per voi una recensione visto che uno dei miei libri preferiti sta per uscire dal cinema come trasposizione cinematografica riuscirò mai a dire una parola giusta ok il libro in questione è l'ospite di stefanie meyer che penso in assoluto uno dei miei libri preferiti se la batte con un'altra serie della quale uscirà il film ad agosto quindi ci sarà una recensione di ogni volume di quella serie per voi nei prossimi mesi ma iniziamo subito da questo visto che il film esce nei cinema domani il 28 marzo si sarà 3 marzo non 6 a luglio anche se mi piacerebbe è questo qui è il libro tolgo il mio nastro perché ho la fissazione di usare nastri come segnalibri quindi che ci posso fare sono uno pazzo quindi questo è il libro questa è la copertina molto 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 bella a mia parere il libro è edito solo in grossura da quanto io so perché non ho mai visto un'edizione col cartonato almeno le vecchie edizioni le prime erano tutte così in grossura è al prezzo è dal prezzo di 12 euro dalla burbic rizzoli eccolo qui questo è il retro e si stefanie meyer è anche l'autrice di twilight però i due libri non potrebbero essere più diversi di di come sono in realtà perché se twilight è il classico urban fantasy ma neanche urban fantasy più paranormal romance con vampiri e licantropi questo è un libro su alieni quindi proprio diverso anche se penso sia la sua migliore opera sì io ho letto anche twilight twilight e sono una gran fan di quei libri ero almeno ragazzina sai ma leggendo questo anni dopo mi sono accorta davvero che l'autrice è molto 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 migliorata e questo libro davvero tante tante emozioni ha un bel numero di pagine sui 550 600 560 ecco 560 e mi leggo il retro dopo il successo mondiale della saga di twilight l'inizio di una nuova incredibile storia d'amore coraggio e amicizia d'amore sarebbe l'ultimo perché comunque parla d'amore ma è visto in un altro modo non è davvero l'amore smielato di bella per edward edward bella jacob per bella bla 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 ehm leggo ora la parte beh cosa qua dietro che parla dei libri insomma guardai Jared negli occhi e provai la più strana di sensazioni lo desideravo con la stessa intensità disperata che avevo sentito vedendolo la prima volta il nostro corpo non apparteneva né a me né a Melanie apparteneva a lui due anime e un solo corpo è così che Melanie e Wanda si conoscono una è l'ospite terrestre e l'altra è lo spirito alieno entrambe sono pedine in una furiosa guerra per il possesso del pianeta dovrebbero odiarsi, ostacolarsi, tentare distruggersi a vicenda ma avviene qualcosa che le fredde intelligenze degli extraterrestri non hanno previsto l'appassionata Mel e la tenace Wanda dividono pensieri, emozioni e sentimenti fino a che l'amore travolge anche l'anima impassibile dell'aliena contro ogni regola, contro ogni istinto, contro tutti Wanda accetta di aiutare la sua ospite e si mette in viaggio decisa di ritrovare il ragazzo che ha acceso in entrambe un amore tanto intenso e sconvolgente da battere qualunque ostacolo amo questo libro, l'ho già detto e vabbè, poi c'è un po' di vita della Meyer però non penso che mi interessi come avete già letto questo libro parla sempre della nostra epoca ma in un mondo in cui gli alieni hanno invaso la terra e hanno conquistato il genere umano questi alieni non sono i classici alieni che vedi magari a mistero ma non gli omini verdi con gli occhioni brutti ma sono più che altro descritti, almeno qui dagli umani che non li hanno mai visti dal vivo come centopiedi perché praticamente loro eseguono un taglio a base della nuca degli esseri umani e si inseriscono nel loro cervello in poche parole annientano l'anima e comandano loro il nostro corpo saremmo una specie di robot comandato da queste entità che tra lì loro si chiamano anime infatti anima, corpo, anima, la cosa che comanda il corpo l'ho capita solo ora ok, sono un genio quindi hanno conquistato il mondo ma ci sono ancora alcune sacche di esseri umani che continuano a combatterli, a sopravvivere anche se queste anime non sono cattive nel senso, loro conquistano pianeti che tentano di migliorare perché il pianeta Terra stava andando incontro alla deriva e loro invece l'hanno rimesso sul giusto cammino infatti non sono violenti, sono tutti amici tra di loro il sistema anche economico è diverso nessuno viene pagato ma ognuno fa il suo dovere, lavora e può prendere ciò che vuole dai negozi gratis semplicemente tenendo un inventario perché se lo merita quindi è proprio un mondo migliore questo delle anime che si possono riconoscere gli umani le riconoscono dal fatto che una volta inserita l'anima nel corpo si forma questo strano cerchietto luminescente intorno alla copilla in mezzo all'iride e vabbè da logico taglio dietro la nuca perché comunque rimane la cicatrice e ogni anima ha una vocazione c'è chi è guaritore, cioè dottore chi è cacciatore, cioè coloro che seguono i ribelli i pochi mani rimasti per catturarli e c'è chi è insegnante come la nostra protagonista che si chiama viandante perché? perché lei ha vissuto sulla maggior parte dei pianeti colonizzati dalle anime cosa molto rara perché un anima in genere nasce su un pianeta sceglie un corpo e in genere resta su quel pianeta alla morte del corpo cambia corpo però rimane sempre sulla stessa specie sono rari i casi in cui delle anime si spingono su un altro pianeta perché non hanno trovato chi sono in realtà la nostra fortunata viandante fortunata poco invece ha girato 6-7 pianeti mi pare compreso la Terra quindi un bel po' di pianeti ecco perché è chiamata come insegnante di storia all'università perché ha visto più pianeti al vivo di chiunque altro e può raccontarlo meglio soltanto che la nostra ospite durante l'inserzione ha scelto di essere inserita in un corpo adulto in genere ti inseriscono nei bambini, nei neonati mentre lei ha scelto proprio di essere inserita in un corpo adulto quindi il primo che riescono a trovare è quello di una ribelle che pur di non farsi prendere dai cacciatori si era buttata in un vano di un ascensore vuoto, senza ascensore dentro spappolandosi in poche parole solo che era rimasta viva e quindi avevano potuto inserirci questa anima per poi anche avere accesso ai suoi ricordi e scoprire dove erano magari altre persone scusate ma ancora una volta mi era finita la memoria e quindi mi si è bloccato la macchinetta mentre io parlavo avevo finito di fare l'ascensione ma puntualmente si era bloccata all'inizio quindi riprendiamo stavo dicendo che comunque quindi volevano anche sapere se magari ci fossero stati altri compagni con lei e dove trovarli e alla fine soltanto lei capisce di essere un'ospite refrattaria cioè che il corpo in cui è stata impiantata sapeva già cosa andava incontro cioè alla annientazione dell'anima per far posto a un alieno e questa consapevolezza cambia le carte in tavola perché se un umano è consapevole di quello che gli accade riesce in qualche modo a preservare la sua anima quindi Melanie non riesce Melanie è il corpo Vanda non riesce Vanda saprò prendere il nome giusto Viandante non riesce ad accedere a tutti i ricordi ma soltanto a quelli che Melanie gli lascia vedere pian piano lei inizia anche a parlarle e gli sfugge qualche ricordo in particolare i ricordi di due persone che erano con lei il fratello minore Jamie e il suo ragazzo Jared e i sentimenti umani sono così diversi da quelli di altre specie così forti che anche Viandante riesce in qualche modo a provare affetto per questo ragazzo e amore per il fidanzato di Melanie anche se non sono lei non ha alcun diritto su di loro fino al punto in cui Melanie riesce durante un viaggio a convincerla a seguire dei ricordi che ha di suo zio che gli aveva lasciato un percorso convinta che lo zio fosse ancora umano e che già le dei gemi fossero con lei e si quasi disidrata nel deserto pur di trovarli dopo quattro giorni ci riesce lo zio le trova soltanto che è l'unico a essere leggermente gentile con loro ma più che altro per curiosità verso la nuova specie visto che Viandante comunque non sembra la classica anima che si era spinta lì solo per trovarli anche perché era quasi morta durante un viaggio e le anime non l'avrebbero mai fatto e Jared soprattutto non la accetta perché pensa che Melanie sia morta e non crede a Viandante quando gli dice che Melanie in realtà è dentro di lei soltanto con il passare del tempo anche Jamie si affeziona a lei soprattutto mi piacevano molto le storie che lei raccontava al ragazzino e all'università mi interessavano molto i vari mondi c'erano il mondo degli orsi c'era il mondo dei fiori il mondo dei pipistrelli il mondo delle alghe l'origine i draghi i delfini c'erano davvero tantissimi che non sono proprio corrispondenti agli animali di cui prendono il nome ma per uno o più ragioni ci assomigliano molto e questa è una delle parti davvero molto più interessanti di altre e altre persone si affezionano a lei appunto come la Jamie un altro ragazzo Ian che all'inizio la odiava solo che nessuno riesce poi alla fine davvero a odiarla con il passare del tempo perché si vede che è davvero buona non non diceva non dicono mai le bugie delle anime ma lei pur di difendere qualcuno che comunque tenta di ucciderla lì dentro mente e la gente capisce che comunque non vuole far del male a nessuno voleva soltanto ritrovare i ragazzi e per varie vicissitudini poi ci saranno altri fatti e cose davvero tristi soprattutto banda questo è il nome che poi danno a viandante nel rifugio con questi altri umani che sono ben mentotto sarà il fatto che è diventata talmente amica talmente vicina a Melanie da voler abbandonare il suo corpo e ridarlo a Melanie tra l'altro uno dei segreti dei tapu più importanti della sua specie insomma è un libro che io davvero consiglio tantissimo è ricco di emozioni forse all'inizio è poco scorrevole ma più si va avanti e più davvero non se ne può fare a meno quindi più consigliato di così davvero si muore è un libro eccezionale secondo il mio parere ho letto molti libri ma questo davvero ha un posto particolare nel mio cuore l'ho davvero adorato mi sono innamorata del pianeta degli orsi per esempio perché loro ah leggete il libro non posso raccontarlo io leggete il libro anche perché se no farei più di quanto ho già fatto spoiler sulla storia vi direi tutto e non voglio quindi quello che vi ho detto è appena un'infarinatura su la dama un po' più approfondita per incuriosirvi quindi sì questo libro per me ha un voto 10 su 10 e è davvero consigliatissimo a tutti sia uomini che donne di tutte le fasce età l'età perché non penso ci siano contenuti sconvolgenti per ragazzini quindi sì perché appassionato davvero lega questo libro perché è una cosa fantastica quindi questo è il libro e giovedì no giovedì non ci andrò domani al cinema ma ci andrò sabato e poi magari vi farò sapere se il film mi è piaciuto o meno quindi arrivederci ci vediamo alla prossima ciao